Sulla Dio di De Santis lei che ne pensa? Una processione giusta o meritava di restare a Napoli? No, meritava di restare a Napoli, però come so io è una sua volontà di andare via e essere accontentato. Penso che Giulio Cesar e altri portieri sarebbero ideali per il Napoli. Se De Santis vuole andare via, può andare via, nessuno lo deve trattenere. Però poi Reina non lo conosce, ma sicuramente sarà un buon portiere. Dispiace per De Santis, certo se arrivasse Cesar allora andrò in bagno, è bene. Anche io.